cari amici buongiorno e benvenuto a occhio ai giornali nella segna stampa di fano tv e cominciamo con l'almanacco del santo del giorno oggi si ricorda san marco evangelista san marco evangelista nacque nel primo secolo a cirene in grecia morì ad alessandria d'egitto simbolo del suo vangelo è il leone il re degli animali che molto bene rappresenta la potenza di gesù cristo ordinato vescovo fu mandato da san pietro in egitto a predicare il santo vangelo confermando la sua predicazione con l'esempio di una vita santa e penitente con innumerevoli prodigi aiutato dalla divina grazia fondò ad alessandria una fiorente comunità scrisse il suo vangelo tra l'anno 40 e 60 dopo quello di san matteo e prima di quello di san luca e san marco è anche patrono di venezia di molte altre città italiane ed è il protettore degli allevatori dei calzolai dei farmacisti degli interpreti dei notai degli ottici dei pittori dei segretari e dei vetrai quindi di tanti appunto artigiani e professionisti e le sue reliquie sono custodite nella basilica di san marco a venezia bene il meteo per quanto riguarda il sole è sorto alle 6 07 tramonterà alle 20 e 02 purtroppo le notizie non sono ottimali perché la morte del gelo ancora ci interesserà per alcuni giorni dovremo aspettare e ancora qualche giorno almeno fino alla fine di aprile per ritrovare qualche bella giornata quindi abbiamo una situazione di schiarite alternate ad annuvolamenti più frequenti nel pomeriggio con rovesci e qualche temporale sparso in esaurimento serale venti sulle coste deboli da nord est e sull'interno da nord temperature ancora in calo quindi ancora un po di pazienza dovremmo soffrire ancora un po per poi ritrovare la primavera ma questo avverrà fra qualche giorno perché ancora su tutta la regione persiste il cattivo tempo bene a questo punto cominciamo con con i giornali con la lettura dei due quotidiani e osserviamo le due locandine le civette e la prima del resto del cardino appunto sulla voce di anastasia che gela l'aula in assise e quella del Corriere Adriatico invece punta sul blitz dei NAS sequestrate 200 tonnellate di latte e formaggi per i supermercati queste sono le due locandine appunto che troverete davanti alle edicole dei due quotidiani il cardino e il Corriere Adriatico bene veniamo quindi subito ai due quotidiani e cominciamo con il resto del carlino che punta in apertura sulla vicenda appunto del femminicidio di anastasia la voce che gela l'aula nella sise e risuona il vocale della ventitrenne uccisa a fano dal marito mamma vieni a prendere il bambino queste le parole nella fotonotizia invece al centro pagina troviamo la vicenda appunto delle sofisticazioni alimentari la soda caustica dentro il latte poi ancora furti e spaccio i residenti sono esasperati aiutateci questo a Pesaro e a fano le elezioni comunali in sondaggio dice balottaggio fanesi serfilippi vediamo invece come apre il Corriere Adriatico che invece punta su un'altra notizia che è quella dello sport lo sport salva il turismo il torneo della Diatic Cup e assicura nel Maxi Ponte quelle presenze che il maltempo ha penalizzato gli albergatori guardano già a maggio ma alcune convention sono saltate e posticipate a giugno poi dopo la fotonotizia per venire incontro alle richieste dei visitatori musei aperture straordinarie poi ancora Ricci in commissione sulla questione di riceci non sapevo niente dice Anastasia Luxoricida lei mi ha aggredito non ricordo altro ancora sul femminicidio appunto di Fano e poi ancora sequestrate 200 tonnellate di formaggi e derivati i prodotti destinati alla grande distribuzione la procura indaga sullo stato di conservazione e quindi andiamo a vedere all'interno adesso la pagina appunto di Fano quella con cui iniziamo ci occupiamo appunto di questa operazione dei NAS latte e formaggi maxiperquisizioni i NAS ne sequestrano 200 tonnellate latte e formaggi alterati appunto oppure in stato di cattiva conservazione prodotti che erano destinati alla grande distribuzione quindi anche ai supermercati e quindi che avremmo potuto anche trovarci nel carrello della spesa un'indagine partita da Pesaro però ha portato al momento al sequestro di 200 tonnellate complessive di prodotti la procura indaga per frode alimentare dopo una serie di sequestri e perquisizioni 10 le persone coinvolte tra le perquisizioni avvenute appunto in altrettante società con 10 appunto individui coinvolti l'azienda madre è della provincia di Ancona e a Iesi mentre quella controllata è nell'entroterra di Fano accoglie al Metauro la terza società che ha compiti logistico amministrativi si trova invece fuori regione nel Pesarese la perquisizione ha fatto scattare l'inchiesta ha riguardato il sito produttivo caseario di fattorie marchigiane il consorzio operava appunto con una cooperativa agricola che appartiene al gruppo Coperlat e su questa operazione c'è stato anche il plauso del ministro al momento non ci sarebbero partite di prodotti sofisticati nei supermercati ma le indagini proseguono ringrazio il nostro ispettorato centrale per i controlli serrati portati avanti ogni giorno sul nostro territorio a difesa dei consumatori e quindi c'è il plauso del ministro Francesco Lollobrigi del ministro dell'agricoltura riguardo questa operazione continuiamo e parliamo di sicurezza la polizia potrà avere più rinforzi se ne parla da tempo e finalmente arrivano arrivano dei rinforzi 10 saranno per la questura il parlamentare Baldelli di Fratelli d'Italia replica a frega del SILP CGL sugli organici e quindi ottiene notizie sono ottime le notizie per la sicurezza appunto nella provincia di Pesaro Urbino il parlamentare di Fratelli d'Italia Antonio Baldelli annuncia rinforzi per la polizia e coglie l'occasione per replicare al sindacalista Pierpaolo Frega segretario provinciale del SILP CGL questi mesi di attività parlamentare argomenti Baldelli sono stati contraddistinti da numerose interlocuzioni con il Ministero dell'Interno con il Sottosegretario Vandaferro che ringrazio e anche dalla sollecitazione di una interrogazione parlamentare appunto mirata sul Commissario di Fano sul Commissariato di Fano e sulle sue difficoltà operative anche sul Commissariato di Fano appunto si richiedevano rinforzi rinforzi che pare che appunto si stiano attivando continuiamo a sfogliare il giornale e andiamo sulla questione appunto del femminicidio la verità di Mustafa tra le lacrime mi ha aggredito poi il blackout ecco il marito appunto di Anastasia dice si difende dicendo che era lei che lo ha aggredito mentre pare che invece le cose siano andate diversamente quindi oggetto adesso del dibattimento mettere in luce tutta la dinamica il blackout è la versione di Mustafa il 43enne egiziano a processo in corte d'assise con l'accusa di omicidio volontario gravato nei confronti della moglie un'udienza fiume in cui ha testimoniato anche la mamma della vittima che era appunto presente in aula e non ha voluto però vedere l'assassino il femminicidio avvenne il 13 novembre del 2022 Mustafa è accusato anche di aver inferto 29 coltellate alla 23enne nell'appartamento di Viale Trieste il corpo fu poi nascosto in un trolley la madre della vittima mi apposi alle nozze lui diceva delle bugie non era un rapporto normale a fondo pagina abbiamo invece una diciamo una notizia che riguarda la polizia locale e il suo operato la polizia locale è stata premiata per le indagini riguardo proprio questo delitto Lanci riconosce senso del dovere spirito investigativo e perspicacia per aver ritrovato il cadavere spirito investigativo perspicacia senso del dovere sono le tre qualità che l'associazione nazionale dei comuni italiani ha riconosciuto la polizia locale di Fano al comando di Anna Rita Montagna durante le ricerche che nel novembre del 2022 portarono a ritrovare nelle campagne fanesi il corpo straziato appunto di Anastasia e quindi la menzione speciale è stata consegnata a una delegazione fanese nei giorni scorsi durante una cerimonia a Roma restiamo a Fano e purtroppo ritorniamo sulla questione degli incidenti che spesso si verificano proprio in centro paura tra tre pedoni travolti sulle strisce neopatentato fugge dopo l'investimento il giovane è stato rintracciato dai vigili urtato anche un bimbo altro schianto con un minorenne la polizia locale rintracciato nel corso della mattinata ma per il momento non risultano denunce nei suoi confronti appunto questo straniero alla guida di una vettura che è stata tamponata che poi ha investito dei pedoni l'incidente stradale su un tratto urbano della stradale adriatica non ha infatti provocato feriti i tre pedoni coinvolti hanno rifiutato l'intervento dell'ambulanza conclusione tranquillizzante di un episodio che nell'immediatezza aveva suscitato una buona dose di apprezzione invece gli agenti della polizia locale hanno accertato che la Citroen del neopatentato un 18enne si era fermata sulla corsia sud di Viale Bozzi poco dopo la rotatoria in cui si inserisce il traffico da via Sauro per lasciare il passaggio sulle strisce pedonali a un anziano di 84 anni a un cinquantenne e a un bambino in sostanza quest'auto è stata tamponata da un'altra appunto da una Fiat 500 ma nessuno è rimasto ferito l'unico elemento piuttosto singolare è la fuga del conducente appunto di questa vettura che poi è stato rintracciato ma non viene denunciato perché era stato tamponato e quindi poi non ha provocato il ferimento di nessuno quindi per fortuna ha lieto fine e andiamo sul Val Cesano e vediamo anche che cosa ci ci raccontano riguardo i bronzi e quindi la visita ai bronzi dorati insieme ai viaggiatori un gruppo di volontari di Pergola ha ricevuto dal comune le chiavi dello yacht complice il meteo incerto saranno borghi musei ad essere tra le mete preferite dei turisti in questo lungo ponte tanti visitatori sono attesi lungo l'itinerario della bellezza il circuito turistico di Confcommercio Marche Nord del quale fanno parte ben 25 comuni della provincia di Peso d'Urbino in molti scioglieranno Pergola per il suo museo dei bronzi dorati gestito proprio da Confcommercio che chiese palazzi e vicoli quindi sono stati sono appunto accessibili e compreso anche questo questo museo ovviamente ne vale la pena perché parliamo di un'opera di straordinaria importanza che appunto è quella dei bronzi dorati di Pergola concludiamo la lettura del Corriere Adriatico con le pagine di Cattolica di Gabice Rivera Banca convoca i soci è stata un'ottima annata domenica l'assemblea per approvare il bilancio e le modifiche allo statuto Cattolica quindi avrà luogo in questa città presso il teatro della Regina l'imminente assemblea dei soci di Rivera Banca che opera in tre province tra Romagna e Marche la convocazione prevista alle 9.30 di domenica 28 aprile che non ha soltanto lo scopo di approvare il bilancio di un'ottima annata fra l'altro le modifiche allo statuto adeguamenti normativi e regolamenti ma anche quello di mettere in luce il buon operato svolto dal lavoro di presidenza dalla direzione e dal consiglio di amministrazione quindi si comincia bene e poi si guarda anche in avanti al futuro a quello che sarà la stagione estiva Senigallia chat veleni il duello tra categorie è un caso abbastanza singolare questo scontro che c'è fra gli operatori bagnini ristoratori scontro totale non solo il cibo divisi anche dall'ordinanza attesa dal comune sull'apertura dei bar in spiaggia tutti contro tutti veleni rivalità tra categorie ma anche all'interno delle stesse sembra in città che ci sia veramente una guerra in vista del ponte il 25 aprile le chat dei balneari e dei ristoratori sono un susseguirsi di commenti botte e risposte da martedì giorno in cui l'associazione di categoria hanno appreso insieme al sindaco di una lettera anonima mandata in comune agli organi di controllo quindi ci si accusa vicenda riguardo i permessi le ordinanze e naturalmente le sanzioni che a dire dell'una e dell'altra categoria non sono appunto per tutti Senigallia invece piange l'ingegner Gennaro stroncato da un malore in Oman era nella segreteria di contratto di fiume il sindaco Livetti la sua dote era l'apertura al dialogo colto da un malore improvviso in Oman è morto ieri l'ingegner Massimo Gennaro aveva 79 anni originario di Voghera dove era nato il 13 marzo del 1945 il cordoglio abbiamo preso della scomparta dell'ingegner Massimo Gennaro colto da un malore mentre si trovava in Oman riporta una nota diramata ieri dall'amministrazione comunale siamo molto addolorati si è adoperato con grande generosità per arrivare all'accordo finale quindi era molto attivo nella vita amministrativa della città bene passiamo adesso all'altro quotidiano il resto del Carlino che appunto apre con il processo per l'omicidio di Anastasia dalla voce che gira l'aula e poi la fotonotizia riguardo la frode alimentare qui si parla di soda caustica dentro il latte la usavano contro l'acidità Maxi sequestro da un'azienda in un'azienda di Codial Metauro poi le elezioni comunali il sondaggio dice Baluttaggio Fanesi San Filippi e appeso alla frutti spettacolo come abbiamo detto i residenti sono esasperati ma andiamo quindi all'interno e qui troviamo appunto i momenti concitati dell'udienza e come abbiamo anche trovato nell'altro quotidiano c'è appunto il il marito l'assassino che respinge le accuse dicendo che era stato aggredito è stata lei a insistere per spostarmi e non è vero che alla famiglia non piacevo dice dopo la nascita del bambino lei è cambiata non è vero che ho lasciato solo mio figlio fuori di casa e che la maltrattavo le ferite ai polsi se le è procurata da sola dice l'assassino il legale di Mustafa ieri ha fatto richiesta di perizia psichiatrica alla corte per il suo assistito ma la corte gli era respinta perché hanno detto i giudici tra l'altro non c'è agli atti nessun certificato medico che potesse provare una sofferenza mentale torniamo sul maxi sequestro di latte quindi troviamo dei risvolti inquietanti appunto la soda caustica addirittura soda causta e acqua ossigenata per correggere l'acidità del latte variato un maxi blitz dei carabinieri di Nass di Ancona e degli ispettori del ministero ha scatenato una grande bufera sul caseificio fattoria marchigiane di Codian Metauro azienda controllata da gruppo Trevalli Copperlat ecco l'abbiamo anche trovato nell'altro quotidiano quindi sigilli sono stati posti su 200 tonnellate di prodotti caseari per un valore di 800 mila euro continuiamo a sfogliare il Carlino e troviamo una notizia anche di storia a proposito del 25 aprile la scelta dell'artigliere Morani disse no ai nazisti e fu deportato detenuto in Francia poi prigioniero in Germania le schede sull'inferno patito dal nonno dell'esponente Dem il 25 aprile è anche un giorno di tante singole storie personali che concorrono tutti insieme ad alimentare il grande racconto della liberazione è un bellissimo articolo che parla appunto di una vicenda di una storia che pareva dimenticata ma che Andrea Angelini è riuscito a recuperare per anni non ha mai voluto parlare della sua detenzione curava le febbri con un fazzoletto in testa veniamo invece al ponte al ponte del 25 aprile ponte agriturismi pieni poche disdette per meteo primo maggio in stand by oggi camera e ristoranti al completo Antonella Rossi dei Conti a Qualagna ci hanno prenotato perfino le piazzole anche la confagricoltura soddisfatta quindi possiamo essere contenti anche se fa ancora molto freddo ma comunque questo non scoraggia il turismo sono soddisfatti i gestori degli agriturismi della nostra provincia in merito alle prenotazioni per le festività del 25 aprile tante sono le strutture già al completo appartamenti pieni per l'agriturismo i Conti di Acqualagna come spiega Antonella Rossi moglie del titolare un po' differente il discorso per il primo maggio per cui al momento non abbiamo prenotazioni per gli alloggi mentre invece abbiamo avuto già richieste per il pranzo in questo periodo in ogni caso stiamo lavorando bene questo appunto per quanto riguarda l'entroterra il ristorante al completo per il 25 aprile per oggi anche al casale del Barone di Mercatello sul Metauro visto il freddo abbiamo deciso di non aprire ancora gli appartamenti spiega il titolare a confermare l'andamento positivo per quanto riguarda le prenotazioni di oggi negli agriturismi è anche Denis Pernabucci direttore provinciale di Confagricoltura siamo soddisfatti perché per questo weekend lungo gli agriturismi che abbiamo sentito sono praticamente tutti al completo bene un un accenno alla questione riceci alla nostra questione riceci il sindaco in commissione l'operazione sbagliata nessuno mi informò audizione del sindaco Massimo Matteo Ricci ieri davanti alla commissione parlamentare sulle eco-mafie per la discarica di riceci dalla bocca del primo cittadino esce una frase che fa il quadro della situazione cioè che nel CDA non ci sono persone competenti ma messe lì per 11 mila euro lordi e 30 mila euro l'anno lordi per il presidente tradotto in volgare persone normali che vanno a parlare con Enrico Fermi della fusione nucleare dice Ricci Tibiroli è un bravissimo manager è anche un uomo di forte personalità per cui tutti si sono fidati anche se in questo caso aggiunge poi in seconda battuta Ricci l'amministratore delegato ha sbagliato clamorosamente un'ultima notizia invece su Fano che abbiamo accennato in apertura ecco qua il sondaggio appunto che vede Ser Filippi oltre il 42% Fanesi al balottaggio con il 31,8% secondo un'indagine il candidato del centro-destra avanti di oltre 10 punti rispetto al centro-sinistra Marcheggiani dei progressisti supera il 25% diviso a metà il giudizio sulla qualità della vita in città Fano al balottaggio per la scelta del candidato sindaco e l'esito di un recentissimo sondaggio della Tecne prodotto tra i cittadini Fanesi tra il 18 e il 22 aprile immagine di errore del 2,8% il confronto al secondo turno sarebbe tra Luca Ser Filippi centrodestra e Cristian Fanesi centrosinistra mentre Marcheggiani per i progressisti si posizionerebbe al terzo posto alla domanda se si votasse oggi per scegliere il sindaco di Fano lei chi voterebbe il 42,5% del campione si è espresso a favore di Ser Filippi il 31,8% per Fanesi e il 25,7% per Marcheggiani quindi abbiamo già le prime ipotesi riguardo appunto chi sarà il primo cittadino e questo sondaggio ci dà già appunto così un'idea anche se bisogna prenderlo con il beneficio di inventario come tutti i sondaggi come ci insegna la storia dei sondaggi appunto bene per quanto riguarda Urbino concludiamo con questa notizia riaprite la galleria ci sono disagi enormi si lamentano gli automobilisti che la mattina devono fare i viaggi più lenti e pericolosi la testimonianza di una dipendente universitaria quando raggiungere Urbino da Bibo Borsaca diventa una traversia non nel puro senso letterario del termine ugualmente se non di più lo è anche per uscire dalla città il nodo è la galleria di Cagulino protagonista del tragico incidente dello scorso dicembre dove sono morte le persone a bordo dell'ambulanza i lavori di Ripristino sono iniziati e sono stati fatti la via è stata riaperta ma solo ha un senso infatti si deve se si arriva ad Urbino da Fermignano bisogna usare la vecchia strada quella delle conce che però non risulta adeguata bene è tutto per quanto riguarda la segna stampa odierna buon 25 aprile a tutti voi e buon proseguimento con i programmi di Fano TV a tutti